Prima contro seconda, il Palabarton alle 17.30 con una diretta su Rai Sport va in scena la sfida più attesa della Superliga di Volley con i Block Devils, reduci dal successo per 3-1 sul campo di Taranto in vita alla classifica, che affrontano la vice capolista del campionato, la Gas Sales, Blue Energy in Piacenza, da molti, indicata come la favorita numero uno per il successo finale. Sicuramente loro sono una grande squadra, lo dimostra quello che stanno facendo e quello che hanno fatto l'anno scorso e noi vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita e quindi è una sfida che ci motiva e ci vede pronti alla battaglia. L'ultimo precedente non è un bel ricordo per i colori bianconeri, con il successo Piacentino nella semifinale di Coppa Italia dello scorso anno, ma questa è tutta un'altra storia fatta anche di volti nuovi, come Lorenzetti e il suo vice Giaccara, entrambi in passato sulla panchina emiliana. Ho iniziato lì in Serie A grazie a questa opportunità che mi era stata data da Angelo e da Piacenza, quindi sì, ci sarà un pochettino magari più di emozione, però poi appena la prima palla viene messa in gioco tutto si azzera e si riparte di lì. Formazione russo ancora out, Leon in forze, ma al massimo si arriverà in panchina, tra le file di Piacenza, forfè per l'Azzurro Romanò.